Ma buonasera duellanti incantatore beatdown o meglio spellcaster beatdown sentite come suona british questa parola grazie al cazzo è british vi metto il link in descrizione del primo duello del format duelli strani bellissimo dove praticamente il tizio giocava a questo deck un po' alla cazzo di cane, peggio di questo e già fa ridere perché peggio di questo ce ne vuole noi abbiamo deciso di portarlo sul canale quindi è nato dal format duelli strani il primo deck in assoluto link in descrizione anche il canale telegram se volete entrare ed essere fichi quanto la fanciulla della luce lunare insomma se entrate nel gruppo io vi mando a casa direttamente questa carta firmata da me, da Mr. Rabona prima di tutto che cazzo stai dicendo? secondo non so neanche se ho questa carta non controllare, ma ce l'ho questa carta? una maga benedetta dalla luce lunare con poteri al di là della umana comprensione e tra l'altro il tizio di cui parlavo prima nei duelli strani non giocava come fai a non giocare nell'incantatore beatdown normale? ovviamente questa carta cioè sei proprio stronzo 3 per di bambola mortale dai poteri magici che quando attacca le forze oscure tra l'altro si pompa di 800 di attacco non è vero bonus ambiente nei primi duelli di Jugyo bellissimi nel cartone 2 per di elfo antico 2 per di la fanciulla lunare tre per di neo lo spadaccino magico in la nostra punta di diamante e vi ho detto tutto perché l'attacco più forte 1 per di la moon e tra l'altro ho vinto anche una partita grazie alla moon non ci credete adesso andiamo a vedere tre per di onesto che in questo specifico video abbiamo reclutato come mostro incantatore io leggo fata non c'è volevo dire non lo leggo fa leggo incantatore quindi siamo tutto a posto 1 per di regechi 3 per di ragionando 2 genera della dualità e potrebbe cozzare con ragionando e insomma con dai inaspettato se la konami bastardo non ci fa pescare tutte le carte insieme inculate non è contenta quindi però se ci pensate comunque ragionando se l'avversario non sa insomma difficilmente azzecca perché va vaffanculo azzeccano sempre porca madonna genera della prosperità genera della progalità 2 penetrare l'oscurità visto che nell'evento è luce contro scurità richiamato dalla tromba goccioline proibite forza riflessa tra l'altro vinto anche una partita grazie a forza riflessa ma adesso in permanenza infinita due punizioni dogmatiche giudizio solenne avvertimento solenne e tre pugni del tennis senza rivali tra l'altro questa carta se spaccasse la carta è che annulla sarebbe fortissima sarebbe una carta devastante purtroppo non spacca l'effetto o il mostro che annulla peccato ma entità maggiore due drago bianco chi blu finale farfalla operativa numero 91 zeus tre mago della speranza è molto low cost ovviamente il deck è ma molto low cost artemis non so nemmeno perché qua cosa lan fornico così a caso tra clebach crociata equimax insomma tutti i mostri di tipo luce che si possono giocare in questo evento del cazzo adesso andiamo a vedere voglio partire esattamente dal tizio che perde da la moon e però mi ricordo qual è il duello mannaggia la madonna allora startiamo normale startiamo dal primo duello che tra l'altro è contro alla nera un mazzo over utilizzato in questo evento perché essendo scurità e senza max senza blossom se ti parte con simone il tossico più disco che ti scopa il culo praticamente ti parte con la board che vediamo nei mazzi normali con il drago arcidemone negate col 3002 col 3000 immortale porco dio lasciamo perdere allora questa partenza favolosa cioè c'è la fanciulla della luce porco dio attivo ragionando il tizio dice livello 1 così evo con neolo spadaccino e setto 2 partenza intimidatoria a livelli calamorosi il tizio rivela simone bandisce zephyrus e grazie all'effetto di pugni del teni non spacco zephyrus peccato ha lo stesso discorso in cui stavo dicendo prima che purtroppo uno spacca dio cani vabbè ma ci sta ci sta perché questa carta non devi pagare nessuna cosa devi solo controllare le mostri tipo normale nel deck spiarale lì spira come cazzo si chiama sarebbe una bomba clamorosa viene negato l'effetto di simone il tossico il tizio evoca calut setta 2 non capisco probabilmente era messo male non aveva scombate da fare ho detto magari c'è un altro calut in mano e lo piglio anali io senza paura evoco un'altra fanciulla della luce ma a cazzo durissimo e picchio perché il mazzo si chiama spellcaster pit down per un motivo tu devi mettere i mostri normali e picchiare come se non ci fosse un domani il tizio pesca di nuovo riattiva ancora simone il tossico bandisce un altro alla nera e si becca la stessa identica cosa di prima un altro pugno quindi praticamente persa la partita infatti si arrende o aspetta infatti si arrende davanti alla luce del nostro deck fantastico bellissimo ci vediamo un altro replay sempre contro alla nera fatemi sapere tra l'altro in qualche commentino qual è il mazzo che vi sta più sui coglioni in questo evento parti che nel mondo c'è che cazzo sto dicendo poi si dice stavo dicendo che nel quest'evento ci sono tanti deck che non sono stati un limitati o robe vardi c'è anche la brinto come è stato nell'altro evento potevano far qualcosa potevano far qualcosa però silenzio al tizio qua giocava al mazzo si non è alla nera sbagliato scusa due brani era mi sa che un altro duello fa niente attivo ragionando il tizio dice 8 aveva paura di democ cosa niente evoco la bambola come ho detto prima è un mazzo beat down quindi insomma deve picchiare ero tutto tranquillo perché in mano avevo anche l'onesto detto vabbè qua vabbè il tizio evoca insomma simone non fa una combo fa una combo del merda che vabbè del merda al cazzo perché insomma ho avuto fortuna tra virgolette a pescare in permanenza perché se questo tizio attiva l'effetto poi mandava a zephyros mi scopava praticamente il culo ma quindi altro che mosse di merda se ho bloccato l'effetto di quella poi avevo carlarci demone non so per qual motivo che tra l'altro anche qua un altro deficiente questo era la nera infatti c'era nera sincron se volete vi faccio vedere la lista ovviamente questa qua è bandita lui mi attacca con l'arci demone ma si becca onesto su neo ho detto qua ho perso beh ho perso no perché potevo fare comunque un rank 4 però devo pescare onesto non so giara della prosperità l'attivo rimuovo 6 un altro neo la fanciulla l'onesto eccolo qua perché ho detto meglio così mi becco l'onesto entro in battle picchio qua potevo fare effettivamente un rank 4 però volevo avere più mossi sul terreno per chiudere tanto lui era top dead ma che cazzo può pescare prima da tutto tutto il mazzo praticamente invece pesca una carta passa pesco mirror purtroppo detto qua mi serviva un altro incantatore per vincere era vaio picchio setto mirror e questa è la partita in cui durante la declist vi ho annunciato che ho vinto una partita grazie a forza di flash l'ho vinta veramente grazie a forza di flash perché adesso il tizio arriva vaio mi evoca sto stronzone l'effetto di quelle che si va a rievocare questa evoca gayl entra in battle picchia e si becca mi errore ha perso praticamente si pia un attacco diretto ma perché dico o praticamente ovviamente sto provando a eliminare le e che sono anche male dette in un video e quindi sto provando ad eliminarle adesso devo provare anche eliminare ovviamente e praticamente fidatevi che non è una cosa facile uno dice vabbè ma ti metti la ti messi scrivi un copione come faccio a scrivere un copione in un video di 15 minuti io li faccio totalmente a caso c'è totalmente a caso in che senso è che mi metto qua davanti ed è come se stessi giocando da solo parlando come un deficiente c'è un aereo che passa sentite sì esatto questa altra partenza clamorosa abbiamo penetrare l'oscurità con sigla tale cosa ho detto ragionando dice lì da l'uno ma io non capisco le all'uno probabilmente la gente ha paura di inferno ma non si può giocare inferno di sto mazzo in sto evento sono tutti in fuoco porco di allora partenza clamorosa 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 fino a un certo punto perché il tizio giocava a branded qualcosa non è un brand scusate predapianta si branded cioè insomma era un predapianta del cazzo insomma un po fatto così attiva l'effetto di quella ovviamente gliela nego prima che si va a prendere la fusione del merda la fusione marchiata la fusione scopata nel culo poi cosa fa il tizio ovviamont lo vedi mi vengo a dire ovviamont o pratica monte devo provare veramente ci riesco ragazzi non riesco a continuare detto il tizio bastardo mi rimuove la bambola figlio di puttana come ti permette di rimuovermi la vanno detto ma sì tanto qua pesco un altro mostro sono sicuro il mazzo è strutturato apposta per pescare le carte magie sì le carte magie la moon attenzione siamo arrivati a quel duello siamo arrivati a quel duello dove si vince grazie alla moon se poi vincere grazie adesso attiva l'effetto di quella ma ovviamente gliela porca madonna porco dio 1 quanti aeri passano ma questo è un missile non è un aereo se sta arrivando un missile qualcosa porco dio ma e faceva la canzone missili missili porco dio e la madonna cos'è faceva il tizio qua faceva reborn su la stronzona ma gliela nego cioè gliela nego gliela spacco tra l'altro qua in questo duello la verità è che ancora non avevo craftato l'entità entis cioè giocavo non la giocavo ancora quindi potevo fare dei meno potevo fare meno due ma non me l'era ancora craftata poi l'ho messa proprio a posto di questa carta del mitico gear free del cavaliere di ferro bastardo ed ecco qua attenzione la moon acqua il ragazzo intimidito impaurito impagliato da la moon decide di passare il turno nove per metà pescato male questo dice ancora livello 1 non capiscono perché dire il livello 1 porco dio se vedi che gioco tutti i livelli 4 magari ha visto la moon che cazzo oppure non ha capito come funziona ragionando può essere può essere perché c'è gente che magari non capisce le carte anche se le leggi questo detto vabbè ma io devo dire un cazzo di coso e se esce quello che non ho detto non evoca invece proprio il contrario tu devi dire un livello se lo azzecchi il mostro non non entra oppure entra l'acqua tra l'altro fa ridere cioè fa ridere il cazzo c'è un cazzo da ridere vabbè altissimo la stava ribaltando pesco solenne che la carta che mi fa vincere oltre alla moon qua tra l'altro non ho picchiato con la moon non mi ricordo perché perché non mi non avevo bene in mente l'effetto di penetrare l'oscurità mi ricordavo che funzionasse solo sui mostri incantatori evocati speciale invece funziona anche sui mostri evocati normali cioè questi il tizio picchia con 2008 la moon solo che si pompa del suo attacco diventa un 4000 quindi il tizio praticamente ha perso perché mi ha picchiato la moon con penetrare l'oscurità picchia vai la moon attacca e ho vinto grazie alla moon non dico cazzate cioè senso è proprio vero poteva attaccarmi la bambola sarebbe cambiato qualcosa non sarebbe cambiato un cazzo però fa niente ci vediamo un altro replay questo contro no questo no questo dura troppo porco di già questo dura d'un bot ma questo era molto trucca stella di merda ma anche quello lì o nell'evento non lo bandiscono mai che cazzo ti barni il culo della sorta la bucchini mamma di barnare guardate qua che mano tra l'altro cioè mani clamorose negate ed evoco ragionando cioè evoco attivo ragionando evoco i mostri proprio uno spellcaster beat town fatto coi fiocchi il tizio di te faceva che aveva quella settava aveva una mano fantastica il tizio bastardo mi me la me la tira fuori dai coglioni con quella carta di merda qua potevo veramente tk no tk no potevo fare ragionando ragionando dai inaspettato prima ovviamente di ragionando potevo fare veramente tanti danni all'avversario però bastardo quella carta di merda ti fa pescare 5 di bandisce la carna che è che ma che è che ma perché ste vento non ste carte qua vengono bandite io sinceramente non lo so poi non mi ricordo nemmeno come cazzo vincevo sto me cazzo vinco stava c'è un mano la moon porco dio che grida vendetta la moon il tizio continua a farmi dei meno in cui pescavo una carta fortissima perché esatto cos'è facevo qua a mismi ok qua mi dava una mano tra virgolette perché avevo in mano la moon e quello detto ma che cazzo devo fa qua attivo neo cioè attivo prendo un euro spadacino lo evoco stavo per perdere rimango tipo a mille life points picchio con il grandissimo neo lo spadacino che vedete quel coso li è tipo quando vi vi hanno usato il buco del culo il buco del culo o il culo del buco sono 11 11 turni tra l'altro non è riuscito a levarmi più x livello 4 bastard ma ha fatto fuori l'aceno mi ha fatto evocare la bambola della morte ma la mannaggia la madonna vabbè fa niente piano ecco così è convinto piano piano perché il tizio non è più riuscito a togliermi life points in nessun modo incredibile fa ridere e poi tra l'altro qua il tizio sa che ho onesto in mano ma che cazzo mi attacca porco di parte di chi gioca sto deck un de celebrato nel trucca stella porco dio quando quando scoperto che ha vinto il mondiale nel 2000 e qualcosa sono forse 18 nel 2018 sono rimasto di stucco questo mazzo ha vinto il mondiale ovviamente non questo di questo coglione ma il generale trucca stella ha vinto il mondiale ma che cazzo ma che cazzo vabbè tizio giocava pure e poi perde da mago della speranza la speranza di battere questo deck era altissimo che mi dà proprio sui coglioni sto deck veramente fa 20 cagare grandi grandissima mossa ma 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 va pato pato e dai pato che cazzo di fuori abbiamo finito i duelli giusto abbiamo visti tutti praticamente forse non ho visto questo che l'ultima su che l'unica sucata l'unica una di tante che giocava mazzo a questo giocava mazzo simpatico con il re supremo fa una mossa carina perché mi spacca tutto in hand con il libro dell'eclissi e anima del re supremo la combo sarebbe che tu attivi vabbè ve la faccio vedere un attimo che cazzo anche se il video dura 16 minuti ci stiamo divertendo ma chi 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 si sta divertendo ma che cazzo vuoi mi sto mi sto rompendo le palle da come fai a romperti la palle quando vedi neulo spadaccino che ti picchia e ti masturba cosa cosa tra l'altro sta combo non è a male perché è fortina se ci parti il tizio cosa fa ti va a vita tranquilla che non sapevo che cazzo è che cazzo serve io avevo una mano tra l'altro neanche tanto forte perché porco dico troppe carte pesco troppi mostri incantatore ne ho delle gioco nove ma che nove ne neanche nove ne gioco pochissimi li continuo a pescare tre pere in quasi tutte le partite livello 4 bastardo beh non sarebbe cambiato comunque un cazzo ma macino mezzo dec finché non arriva la bambola o sempre la bambola mortale niente picchio setto setto e il tizio fa la mossa di cui stavo parlando prima insomma attiva anima del re supremo si attiva libro dell'eclissi si copre spacca tutto io non pesco è manculato e ho perso così non è una mossa malvagia siamo arrivati alla fine di questo video ragazzi ci vediamo nel prossimo fatemi sapere questo dec se fosse il vostro gradimento o se gesù sennò piange cosa bella a tutti ragazzi bella a tutti